Per il prossimo esempio ho scelto una foto molto importante. È una foto importante perché si tratta di Sonny Rollins in azione sul palco e tra l'altro mi è stata concessa in utilizzo da uno dei più noti fotografi italiani e più blasonati anche in ambito jazz che è Emanuele Vergari. Lo ringrazio sinceramente per questo favore che mi ha concesso. Chiaramente è una foto live, scattata in condizioni di luce abbastanza estreme e sappiamo che in questi casi dei problemi ci sono. Non dipendono naturalmente dal fotografo ma dal fatto che per l'appunto si è obbligati a lavorare con sensibilità molto alte, ci sono problemi di rumore e via dicendo. È chiaro che quando si vede una foto del genere il tentativo di fare una maschera di contrasto 501.0 su questi cappelli per enfatizzarli il più possibile naturalmente è piuttosto forte. Il problema è che certe cose, perlomeno con la foto nel suo stato originale, non si possono fare. Perché? Andiamo a vedere. Duplichiamo lo sfondo, utilizziamo il filtro, nitidezza, maschera di contrasto, 500, 1, 0, 500, 1, 0 e vediamo che questo è il risultato. Abbiamo già un sospetto di cosa sta succedendo, siamo al 50% di ingrandimento, andiamo a vedere al 100%. Vedete? Questa costellazione di puntini è il rumore che viene incredibilmente enfatizzato, come tutto il resto peraltro, dal filtro che abbiamo applicato. Questo chiaramente è un risultato inaccettabile. Staremo per abbandonare il campo o dovremmo pensare che magari è opportuno andare a ridurre il rumore nell'immagine prima di fare lo sharpening e questa infatti è una buona idea e ne parleremo in una delle prossime lezioni. Ma in questo contesto vi voglio far vedere un trucco che è molto interessante. Andiamo a creare una maschera di livello e andiamo a fare immagine, applica immagine, dallo sfondo naturalmente e andiamo a scegliere un canale che ci fa piacere. Per esempio RGB direttamente può andare bene. Isoliamo la maschera e questo è di fatto la luminosità dell'immagine originale. A questo applichiamo il filtro di cui abbiamo parlato in una delle lezioni precedenti. Stilizzazione trova bordi. Quello che succede è questo. Abbiamo un filtro che va a disegnare quasi perfettamente tutti i bordi dell'immagine. Usciamo un attimo con lo zoom e vediamo che cosa è successo. Questo filtro naturalmente ci servirà per far passare la maschera di contrasto soltanto dove la vogliamo. E dov'è che la vogliamo? Sui bordi. Il problema è che i bordi che ci interessano qui sono neri e devono essere bianchi. Mentre è bianco tutto il resto che deve essere nero, cioè dove vogliamo andare a frenare la maschera di contrasto. Questo si mette a posto in un attimo con immagine, regolazioni e inverti. Oppure se preferite command o control e se lavorate su PC. Andiamo a vedere più da vicino. Vedete i bordi adesso sono molto ben delineati. Rimane ancora del rumore che è stato isolato dal filtro. Possiamo liberarcene con un filtro ben noto che è disturbo intermedio. Andiamo a raggio 1 e vediamo che mano a mano che aumentiamo col raggio questo filtro tende a cancellare quasi completamente il rumore. Così ne siamo contenti, siamo passati da qui a qui. È diventato tutto molto più omogeneo e a questo punto abbiamo una maschera di livello che è praticamente perfetta. Quello che dobbiamo fare ancora è andare magari a curvarla in maniera da chiudere completamente le ombre. No, così è un po' troppo. Andando però al contempo a enfatizzare le luci. Cioè andando a mantenere in qualche modo la maschera aperta sui bordi che sono quelli che ci interessano. Qual è il risultato a questo punto? Il risultato è che se io tolgo questa maschera questo è l'effetto. Se io invece inserisco questa maschera viene salvaguardata la maschera di contrasto solo sui bordi. Se pensate che non ci sia differenza guardate. Questo era prima e questo adesso. Prima e dopo e non ho più nessun tipo di problema di rumore. Andiamo al 50%. Vediamo l'immagine in un contesto un po' più globale senza maschera di contrasto con la maschera di contrasto frenata da questa maschera di livello basata sul filtro trovabordi. Quindi vedete una maschera di livello utilissima soprattutto quando ci sono delle aree che vanno escluse a causa di effetti collaterali altrimenti sinceramente inaccettabili. E con questa lezione si conclude anche questo capitolo relativo alla maschera di contrasto in azione. Nel prossimo cercheremo invece di iniziare a mettere in piedi un flusso di lavoro completo per capire come lavorare rapidamente, agevolmente e in maniera sicura con la maschera di contrasto.